Vice Capitano Granata Marco Mollura, una partita entusiasmante, 82-71 il risultato finale a favore di Granata, una vittoria in trasferta che erge Trapani al primo posto di questo Girona Azzurro. Che partita è stata Marco? Una partita difficile, ci aspettavamo fin dall'inizio, loro sono una squadra costruita per i piani alti e la classifica del campionato sicuramente. Siamo venuti qua, abbiamo detto la nostra, è stata una partita molto fisica, molto combattuta e abbiamo avuto la meglio noi, 82-71. Siamo sulla strada giusta, ancora non abbiamo fatto niente perché ce ne sono altre quattro, dobbiamo continuare così. Devo tagliare? No, no, no. E' una cosa molto importante che penso sia, per tutti valga la stessa idea, questa partita la vogliamo dedicare a Curtis che purtroppo si è fatto male, speriamo nulla di grave, lo chiamiamo noi il popotamo. Speriamo che si remetta perché sicuramente la sua mancanza si fa sentire tanto.